Entra nel mondo l'olato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Mentre una perturbazione attraversa il centro-sud sul nostro territorio il tempo si manterrà asciutto. Il dettaglio di lunedì 15 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di sole e nubi con qualche nebbia la mattina spesso in alcune zone persistente. Altrove non mancheranno schierite. Temperature in ripresa minime tra meno 1 e 3 gradi massime sui 5-6 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie nubi inizialmente specie sulle aree pianeggianti. Ampio soleggiamento ovunque a seguire. Temperature minime tra 1 e 4 gradi massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole e dappertutto dunque poche novità. Cielo sereno o velato. Temperature minime tra meno 1 e meno 2 gradi massime sugli 8-9 all'incirca. Dal Meteo è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene. Katare.